Allora, Presidente da San Stevese Marco Proto, un commento sul calendario appena uscito. La prima con l'Altarese, partita insidiosa. Sì, diciamo che è una partita insidiosa, ma essendo un campo sui Balbormid è meglio andarci la prima giornata e non andarci in pieno inverno. Per il resto, il calendario, tanto vanno incontrate tutte, chi più e chi meno, per cui, come dico noi, guardiamo partita per partita. Contro la Sanremese, una sgambata amichevole, si è vista una buona San Stevese? Diciamo che questa amichevole era giusto, proprio come hai detto te, per una sgambata. Per noi si arriva solo per vedere lo stato di forma atletico, per cui penso che per noi ci sono state delle risposte positive. Ultima cosa, col Bordighera cosa vi aspettate? Dei miglioramenti, siete stati anche sfortunati a Diano, Domenica. Come ti ripeto, una partita giusta per entrare già nel clima campionato, faremo la nostra partita, penso che non l'affronteremo come una partita normale, senza obiettivi di passaggi di turno, perché, come ripeto, a noi ci serve per entrare già nel clima campionato.